E allora ci siamo, ci siamo, sono già sedute le due medaglie d'oro e adesso facciamo entrare due delle quattro che la medaglia d'oro l'hanno portata a casa, Giulia Rizia e Mara Navarria. E' veramente... prego, 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 prego! Io vi vengo a stringere la mano perché è assolutamente un grandissimo onore, grandissimo piacere. Emozionante, molto emozionante ma anche storica. Quella di ieri è stata una puntata straordinaria di Udinese Tonight grazie alla aulica presenza di Mara Navarria e Giulia Rizzi che con le loro medaglie d'oro hanno acceso e illuminato gli studi di TV12. Due delle quattro ragazze, insieme a Rossella Fiammingo e Alberta Santuccio, che hanno vinto l'oro olimpico a Parigi 2024 nella spada squadre femminile, traguardo mai raggiunto prima d'ora. Traguardo che anche le stesse protagoniste fanno ancora fatica a credere che sia vero. Voi vi siete rese conto di cosa avete combinato? Però, medaglia d'oro, prima volta nella storia della scherma squadre femminile avete raggiunto un traguardo che non è più superabile. Ma devo dire che più i giorni passano, secondo me, più ce ne rendiamo conto. I primi giorni in realtà Giulia continuò a chiedermi ora... Ma è vero? No, vai. No, anche la sera continuavo a farle così e dicevo, ma Mara, è vero che abbiamo vinto le Olimpiadi? Sì, siamo campionisti olimpiche e quindi è davvero bello. Forse adesso, con l'affetto a meno che riceviamo per strada e con i nostri amici, è veramente bello. E soprattutto abbiamo appassionato e ci hanno seguito persone che assolutamente della scherma non capiscono niente, non conoscono le regole. C'è un po' di regole, però ci hanno tifato come i pazzi, ci hanno sostenuto. Io qua ero già stata ospite, però devo dire che si è sentito, abbiamo un fondo pedale aggrimito, questo sicuramente. Una trionfo che non verrà mai dimenticato e che anche a distanza di una settimana fa commuovere le due campionesse friulane che, rivedendosi, non trattengono l'emozione. Giulia reagisce bellissima, questo sì! Brava Giulia, meno due Italia! Sì Mara, sì così Mara, così! Risulta Mara da Maria! Sì! Sì, è storia, è storia! È una giornata storica per la scarpa femminile italiana che esce dall'alicchio del fioretto e vince un oro olimpico anche nella spada! Sì! 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 Sì!